Perché i mafiosi invitano noi per venire qui? Perché loro, noi, noi, lasciate loro per intimidare il lavoratore, ma noi non possono abbassare il testa, noi non possono abbassare il testa per questi, per questo è begoglioso, sempre loro piace intimidare il lavoratore, loro, noi, noi lavoriamo senza pagare, non possono accettare così, perché... Ed ecco qua, dipende i diritti di ogni lavoratore, noi non disturbiamo nessuno, noi non fiamo il casino, noi qui in Italia, lavoriamo, anche dipende i diritti di lavoratore, perché ogni lavoratore, noi diciamo, le ditte, le ditte umane, siamo qui perché, perché questi mafiosi, vogliono intimidare il lavoratore, noi dire no, basta questi, basta, Grazie